Gianluca tu sei qui dall'estate del 2013, ne abbiamo vissute tanti insieme, questo forse è il momento più difficile, come se ne esce fuori? Un momento difficilissimo, se ne esce fuori tutti uniti e cercando di fare il risultato subito da sabato, di portare a casa i tre punti perché dobbiamo uscire immediatamente da questa situazione. Cosa va lasciato la trasferta di Venezia dove non avete giocato malissimo ma forse è mancata la reazione dopo quel rigore, sì dubbio, però magari ci si attendeva una reazione diversa a caccia del pari? Sicuramente abbiamo ritrovato alcune certezze che forse stavamo perdendo, sicuramente abbiamo fatto una discreta partita soprattutto il primo tempo, poi dopo il gol forse ci è mancata proprio la reazione che ci doveva portare al pareggio. Sicuramente dobbiamo mettere qualcosa in più soprattutto in fase offensiva per almeno quando fai sotto di pareggiare. Qual è l'atmosfera del gruppo e che differenze vedi tra questo gruppo e quello delle ultime due stagioni in cui ci siamo salvati alla penultima e all'ultima giornata? No, sicuramente questo gruppo adesso sta subendo un po' questa situazione, siamo entrati un attimo in un vicolo un po' buio e penso che con l'unione come abbiamo fatto negli altri anni, perché negli altri anni c'è stata soprattutto unione tra tutti, siamo usciti e quest'anno dobbiamo fare la stessa cosa. Ti senti da scolano responsabilizzato nel dire a tutti che qua bisogna lottare fino alla fine perché andare in Serie C non piacerà a nessuno e tu credo che siccome hai lottato per tornare in Serie B non vuoi assolutamente quest'anno retrocedere? Come noi mi sento più responsabilità di tutti, mi sento questa situazione proprio dentro di me dura e difficile, sto cercando di dare il massimo anche fuori, anche quando non giocavo, ai compagni di incitarli, di far sì che ognuno dava il massimo, il 100% per fare il massimo e per ottenere la salvezza. Come state preparando questa sfida con la Ternano, una squadra che è vero che non ha mai vinto in trasferta, agli stessi punti vostri, però nelle ultime due gare ha ottenuto quattro punti? Sicuramente loro si trovano nella stessa situazione nostra, quindi verranno qui per vincere come vogliamo fare noi, è una partita delicata, importantissima, dove dobbiamo dare il 100% di più, non dobbiamo parlare, adesso sono solo fatti. C'è solo un risultato? Senza retorica, ma stavolta veramente c'è solo un risultato e che atteggiamento ti aspetti da partire ai tifosi? Io mi aspetto un atteggiamento di essere proprio tutti uniti, con la carica soprattutto di tifosi che se ce la danno ci possono dare una grossa mano all'interno della partita e quindi l'atteggiamento deve essere un atteggiamento che dobbiamo vincere per forza. Ma state guardando la classifica, forse in questo momento è meglio non guardarla? No, la guardiamo perché ci rendiamo conto della situazione e quindi bisogna guardarla sempre, però adesso pensiamo a sabato con la Ternana e poi penseremo a quella dopo, ma adesso è importante la partita di sabato e non dobbiamo sbagliare. Come hai visto venditti e parlati dopo quello che è successo? Sicuramente ho visto dei ragazzi spaventati, impauriti, che però grazie anche a noi come gruppo, come squadra, gli siamo stati vicini e supereranno bene questa cosa.